Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su un server di Minecraft con dentro GTA Perché in sostanza ha tipo delle armi e delle cose abbastanza crine In realtà abbiamo visto tanto tempo fa questo server E oggi ve lo ripropongo perché hanno aggiunto una cosa particolarmente interessante Che mi ricorda molto in realtà un altro server che abbiamo giocato tempo fa Che però è tutta un'altra cosa che è Skull Jail Brick Infatti tipo credo che siano gli stessi sviluppatori Perché l'idea di fondo è la stessa Però la faccio subito vedere perché è un pochetto lunga come cosa E devo tipo recuperare delle gemme in realtà se riesco Quindi vedremo un attimo se ce la facciamo in questa puntata In ogni caso vi dico sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere altre puntate di questa serie Che è come vi dicevo GTA in Minecraft E ovviamente se volete nuovissimi video lasciate un bel like Arriviamo a 400 like per nuovissime puntate E iniziamo il nostro piccolo giro per ora su un server diverso Io direi di andare per ora su GTA 2 perché GTA 1 è un po' laggoso Ha un bel po' di problemi quindi evitiamo per il momento di entrarci Entriamo sul 2 così che carichi la texture Carichi tutto il resto visto che comunque abbiamo bisogno di un po' di cosette che deve caricare Abbiamo a disposizione la nostra banca Abbiamo a disposizione la polizia Ci sono le macchine che possiamo comprare Esiste il McDonald's una cosa molto simile in realtà dove si può ricoprare del cibo C'è questa parte qui che credo serve anche per i veicoli Però non so bene come funziona in realtà Quindi lo vedremo sicuramente in futuro Direi abbiamo l'housing Abbiamo da questa parte invece Credo la parte delle armi Mi sarà una cosa del genere Delle crates comunque E da questa parte invece abbiamo Sempre il McDonald's che vi dicevo Qual è il casino Qua abbiamo le armory Quindi possiamo occuparci credo Anche roba figa Tipo questa qua che sta buttando questo tipo adesso In questo momento E poi di qua invece c'è il parking Credo una cosa del genere Il parkour Ok perfetto All'inizio abbiamo soltanto quest'arma Che ovviamente è una pistola per iniziare Abbiamo anche 200 Più ovviamente un brick Che dobbiamo tipo scambiare Da dentro avrei cosette Però vi faccio vedere Che in primo momento Possiamo comprarci anche le armi di qua Infatti possiamo comprarci Come avete qui un bel po' di armi Tranquille e leggere Ovviamente abbiamo il tier 1 Fino al tier 3 Questo invece è il tier 4 Con le armi un pochino più potenti Che costano comunque tipo 500 Come potete vedere Possiamo sempre anche vendere le armi Che recuperiamo in giro per la mappa Perché infatti si può recuperare un sacco di roba In giro per la mappa E direi che a questo punto Ci conviene soltanto Iniziare a giocare E vedere un paio di cosette Anche perché voglio andare nella warzone A vedere un po' di cose utili L'unica cosa che in realtà Mi stupisce È che vorrei capire come si fa in realtà Perché è una cosa che mi interessa È vedere come si recuperano le gemme Perché con 100 gemme Recuperiamo la nostra prima casa E vorrei capire in realtà Come funziona Qui comunque possiamo vedere Top killer E cose del genere E penso che Tipo vediamo che Qualcuno ha ucciso 53 persone Oh mio dio Bel casino Qui possiamo iniziare a andare se vogliamo Tramite le politette di Expo Qua abbiamo La zona della droga Va bene Con dentro la Mountain Dew Il Mad Kit La Pepper Chili E la Dragon's Breath Va bene Sono cose Abbastanza strane Direi di non perdere altro tempo E andare subito a giocare Ovviamente dentro il nostro server In questo primo episodio C'era poca gente Anche perché Sto giocando di mattina Dove non c'è molta gente E la maggior parte Sto giocando sul primo server Quindi magari in futuro Tornerò sul primo E vi faccio vedere Che ho recuperato anche un P90 Più una Gun Pugan Che è molta roba E in realtà vi faccio vedere Che possiamo sparare A questo coso qua Che dovrebbe essere Credo Se ho capito bene Un mezzo ladro Una cosa del genere Abbiamo poche munizioni La cosa brutta è quella Ma dovremmo riuscire A buttarlo giù Come avete visto E recuperare anche un po' Di roba in generale Ora teoricamente Io potrei anche sparare A questo piccolo amico qua Sto ricaricando Anche un paio lì Di altre munizioni Perfetto Vediamo un po' Se riesco a piecarlo in testa Perfetto E guardate un po' Soldi a manetta Che possiamo recuperare E metterceli da parte Questi sono i crook Anche questi immagino Che siano altri tipi strani Che devo uccidere In qualche maniera E cerchiamo un attimo Di buttare giù Tutti questi Per recuperare un po' Di roba Tranquillamente Oh Perfetto Guardate un po' Soldi a manetta Come se non ci fosse un domani E abbiamo recuperato Un po' di roba Nel frattempo Recuperiamo anche un po' Di oggettini Non ho proprio Nessun'altra cosa Qui dentro Abbiamo un Enfield Che teniamo da parte Questo è un common Questo invece è quello Tipo uncommon Quindi teoricamente Questo è migliore E teoricamente Mi sa proprio di sì Perfetto E vediamo un po' Se riusciamo a trovare Altre cose qua in giro Un altro Enfield Ovviamente Io ho visto che ci sono Mi potenzo anche l'armatura Perché a questo punto Ci serve L'armatura potenziata Lasciamo magari questa roba Che non ci interessa Per il momento E andiamo alla ricerca Di munizioni in generale Perché ci siamo Un po' di munizioni Qui dentro c'è anche Un medkit Questo tengo da parte Che potrebbe essere utile Sicuramente per Affrontare i nemici in giro Una common lockbox Ok questa la possiamo aprire Credo Da qualche parte Non so bene dove Ma lo faremo E per ora Possiamo tornare allo spawn A questo punto E aspettare Allora mettiamoci da parte Il nostro fucile Ricarichiamo Le nostre munizioni Tranquilli Perfetto E tornando a casa Perfetto Andiamo a vedere Cosa c'è dentro All'lockbox Però prima Andiamo a vendere Un po' di roba Che abbiamo in inventario Quindi in questo caso Andiamo verso l'armory Così buttiamo Tutta la roba Che abbiamo adesso Sono in sostanza Tanto tipo Leatherpants E cose del genere E vediamo assieme Cosa riusciamo a fare Blacksmith Con due armi Addosso Tanta roba Perfetto E posso solo comprarlo Non posso vendere la roba Allora a questo punto È meglio buttarla Questa cosa qui Qui c'è Pensavo che fosse utile In realtà Invece Non si può nemmeno utilizzare Quindi a questo punto Buttiamo la via Io vorrei aprire però questa Per vedere un po' Cosa c'è dentro Vediamo un po' Ho avuto una reward Che è in sostanza Credo questa stone hawk In realtà poi Credo sia un m24 Quindi non è nemmeno Troppa roba Se ci pensate Però se andiamo qui Dalle guns Possiamo vendere questa roba A un buon prezzo E guadagnare dei soldi Che possiamo utilizzare Sia per comprare Delle nuove armi Sia delle munizioni In generale Abbiamo il genshop Che possiamo Credo utilizzare Per poter comprare Delle nuove armi Tra cui la railgun Voglio la railgun Per la possibilità Che sembra abbastanza carina Molto bella come cosa Abbiamo pure la freezer rail E la laser beam Oh mio dio Questo è un P7 Ragazzi Fantastico Comunque ne va a vendere Un po' di roba Che abbiamo al momento Quindi vendiamo Vediamo un po' Le armi che non ci interessano Tipo abbiamo due Enfield Quindi a questo punto Vendiamo il primo qua Facendo così sell Ok In realtà ne abbiamo vendute due Ma vabbè dettagli Vendiamo anche questo Le mie 24 Ah no però Questo è livello 2 quindi Quindi com'è Uncommon Common È raro Ah Quindi Ok Funziona in questa maniera Possiamo venderci la single shot Questa qui che tanto Non la utilizzerò mai Questa la tengo da parte Perché mi sembra abbastanza carina Come cosa E cos'altro possiamo vendere Credo almeno uno di questo Sicuramente Lo possiamo vendere E penso Basta per il momento Abbiamo trovato un sacco di chest Sicuramente Non c'è molta roba Però io comunque Cercherei di prendere Un po' ciò che c'è dentro E dentro ovviamente Non ci sarà nulla di speciale Una mountain dew Volevo vedere Cosa diamine fa la mountain dew Sinceramente E ci da tipo boost E cose fighissime A manetta E penso sia molto utile Per scappare dai nemici Qui abbiamo ancora Altra roba utile Tra cui anche del cibo Abbiamo di nuovo Un altro fucile Perfetto Che adesso le carichiamo Così che abbiamo dentro Un po' di munizioni Eccolo qua ragazzi Ok E ecco mi serve un attimo La glock in generale Perfetto sto uccidendo Devo un attimo colpirlo Così Oddio mi sta uccidendo male Stiamo ricaricando In questa maniera Devo anche ricaricare In realtà questo E sta scappando ragazzi Sta scappando Vieni qua Dove pensi di scappare Quello monedetto Guarda sta facendo il giro Sta facendo Ora lo becco E dovrebbe morire Perché è il nostro primo Adepto da uccidere Guarda guarda che stronzo Ok allora Sto cercando di ucciderlo In qualche maniera Dovrebbe essere quasi morto In realtà in generale Vediamo un attimo Se riusciamo a colpirlo Perfetto Ucciso ragazzi E aveva dentro Roba figa In realtà no Oh mio dio Adesso che uccido questi Ecco qua Arrivano i poliziotti Che sono tanta roba Direi che non ci interessava In realtà rimelo uccidere Quel tipo Perché boh Non aveva nulla Di interessante dentro Però giusto E' importante fare così Ovviamente in futuro Quando avremo più gente Dentro al server Troveremo molta più roba E molta più gente Quindi non preoccupatevi Per il momento L'importante è comprare Delle armi super fighe Super rare Costano anche Un occhio della testa Che costano 500 Ma quella K Io lo voglio ragazzi E infatti Prendiamo la roba Che non ci serve Tipo per esempio Adesso potrei vendere Sicuramente uno di questo Vendere un altro Di questo M24 Più che altro Mettiamo lì qua Le M24 Che non ci servono Così possiamo vendere Perché ho visto Che sto vendendo Tipo la roba Con dentro le munizioni Potremmo comprarci Questo Vector E il Vector È già tanta roba Allora magari Ce lo otteniamo Questo P90 Però in realtà Non so che utilizzo Farne per ora Quindi lasciamo perdere Siamo comunque a 474 Possiamo comprarci Una delle armi super rare Appena possibile Però io vado a votare Invece E vado a vedere Cosa c'è Nella nostra crate Visto che voglio trovare Un po' di roba Dentro anche la crate Si può votare Fino a tipo 5 link Quindi ci sta Come cosa Anzi in realtà Credo siano 6 No sono 5 Quindi 5 crate Al giorno Io aprirò la prima Vedendo un po' Cosa c'è dentro Può uscirmi di tutto Vediamo cosa c'è ragazzi Io spero Cos'è di buono Dai su su Mi ha dato Due vote coin Che non so Cosa facciano In sostanza E Bella domanda Non lo so ragazzi In realtà Cosa posso Come posso utilizzarli E vediamo un attimo Qui dentro cosa c'è C'è un altro granat launcher Perfetto Quindi Boh in qualche maniera Si potrebbe vendere la roba Eccolo qua Il coin shop Ok E posso comprarmi Una legendary Lockbox Per 8 E c'è anche una Common gear box Per tipo 50 Perché scusami Vale di meno Questa cosa Cioè posso comprarmi questa Ma non posso comprarmi il resto Non ha molto senso Come cosa Però va bene Perché penso Qui dentro Forse si possono trovare Anche tipo i diamanti Che penso Costano un po' di più Perché effettivamente Nella zona dell'armory Mi sa che si poteva comprare La roba a un prezzo Più decente Comunque qua abbiamo Il food machine Che in realtà È un maiale Che ti vende Le cose da mangiare Va bene In ogni caso ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ditevi sotto nei commenti Se potete vedere nuove puntate Magari ci dirigiamo Verso il server 1 Che è pieno di roba E pieno di gente Comunque dentro In ogni caso Io prima di te vi saluto Noi ci vediamo presto A un nuovissimo video Ciao ragazzi Nella prossima puntata Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi